Non bastavano le figurine dei santi per fare gioire i bambini del catechismo chiamati a partecipare alla Santa Messa Domenicale. Adesso Don Stefano Panebianco, a capo della chiesa di San Nicolò, frazione del comune di Acicatena, ha pensato anche agli adulti. Come? Con una collezione di immagini rigorosamente adesive, dunque da attaccare sull'album, che riguarda le cattedrali d'Italia. Un modo non solo per incuriosire e stimolare il collezionismo, ma anche per arricchire la conoscenza. Si tratta infatti di un progetto che permette di approfondire gli aspetti che si nascondono dietro alle costruzioni di luoghi mirabili. Edifici che custodiscono all'interno immagini di bellezza artistica e spirituale, opere di grande pregio presenti pure nei libri di scuola. Uno studio, quindi, che in maniera leggera, ma non per questo banale, permette di comunicare e tramandare parte del patrimonio delle nostre comunità. Quest'anno la parrocchia San Nicola di Acicatena, insieme all'oratori San Vilippo Neri, della stessa comunità, ha il piacere di presentare l'album delle cattedrali d'Italia. È un album molto particolare perché prevede la raccolta dei 226 immagini che ci permetteranno di conoscere le cattedrali delle singole diocesi italiane. L'album è stato immaginato e stampato secondo le regole dei collezionisti e degli appassionati.